di che invece in fa diesis tra il fa diesis sol diesis un tono sol diesis la un semitono la si c'è un tono si do diesis c'è un tono do diesis re diesis un tono re diesis mi diesis che sarebbe il fa c'è un tono tra il mi diesis cioè il fa e il fa diesis c'è un semitono infatti sono tutte allora fa diesis minore melodica sono tutte alterazioni in diesis appunto sharp e sono fa diesis sol diesis do diesis re diesis mi diesis che il fa e il fa diesis di nuovo